Bentornati su Cipartv, lunedì 13 luglio 2020 e il voo di oggi una semplice Cindy. 20 minuti unwrap, 5 pull up, 10 push up e 15 air squat. Scalature e tutto il resto sulla grafica qui di fianco, noi ci vediamo domani per un altro voo di insieme su Cipartv.